i videogiochi possono salvare la vita ma in un certo senso secondo me sì o perlomeno io credo che con me lo abbiano fatto soprattutto perché parlando poi con mio fan su instagram abbiamo condiviso alcune cose e alla fine ci siamo trovati essendo tutti e due della stessa città sapete benissimo che io vivo da tanti anni a napoli io ho già raccontato una parte della mia vita che non ho vissuto a napoli però la maggior parte della vita l'ho vissuta a napoli si sa benissimo che comunque è una città particolare nel senso che ha i suoi pro e i suoi contro e ci sono comunque delle realtà queste volentieri anche abbastanza difficili e complicate sapete benissimo che è stato un periodo della mia vita in cui avendo problemi familiari spesso e volentieri restavo da solo a casa non ero neanche tanto grande ed è stato quello il motivo in cui ho cercato un un rifugio un compagno un qualcosa o qualcuno con cui parlare e l'ho trovato forse nei videogiochi anche perché all'epoca l'epoca mia non c'era niente anche se avessi voluto parlare da solo avrei voluto parlare con uno specchio non c'era neanche una telecamera come c'è adesso che magari uno cerca di parlare con dopifano qualcosa all'epoca non c'era niente quindi o si restava a casa come nel mio caso e si giocava anche giocare da solo era difficile anche se in camionia a volte giocavo anche da solo con a calcio o si scendeva in quel periodo rimanevo spesso e da solo a casa e vivevo in un quartiere particolare e era facile magari scendere giocare a calcio che era la cosa più naturale per lo meno all'epoca mia e giocare con gli amici e vi assicuro che c'era un mix nel senso era facile avere amici tranquilli e amici meno tranquilli dico questo perché conosco persone di quel gruppo che hanno apparito determinate strade non mi fermo su questa cosa perché non mi va e quindi magari in un periodo particolare della mia vita dove avrei voluto cercare anche conforto in qualcuno o in un qualcosa magari sarei potuto incappare in qualche errore perché io penso che quando uno è giovane spesso e volentieri si lascia anche incuriosire da determinate cose determinate amicizie magari da quello che può fare una persona più grande era di te se sei più piccolo all'epoca avevo decina d'anni è facile che la vedi come una cosa impossibile e venne affascinato da questa cosa credo che sia normale soprattutto se poi non voglio dire nel mio caso presenza dei genitori perché i miei genitori in quel periodo avevano altri problemi seri quindi se mi metteva ad aggiungerne anche degli altri invece noi sono stati i genitori non presenti presentissimi quindi normale che se in un periodo della vita ci sono dei problemi ben più gravi si fa famiglia si cerca comunque di capire la situazione è stato lì in quel periodo in cui ho deciso mi sono un po più grappato a dei giochi ho giocato molto più spesso che poi tra l'altro vi dico anche un'altra cosa spesso volentieri si dice ai bambini di non giocare tanto perché comunque fa male tipo agli occhi io vi dico esperienza mia io comunque con gli occhi ho sofferto tanto però ancora gli oculisti con cui ho parlato mi hanno sempre detto che gli occhi sono fatti per vedere secondo me lo si dice più che altro perché giocare tanto porta comunque a estraniarsi non guardare il mondo a non conoscere persone pelle a toccarle quindi penso sia più questo ma non sono un medico vi dico soltanto la mia esperienza è quello che mi hanno raccontato mi hanno sempre detto gli occhi sono fatti per guardare per cui normale che se uno ha gli occhi rossi non ci fa più fa un po male non è che diventi cieco c'è altre leggende che dicono che uno diventa cieco per cui proprio in quel periodo cercando un rifugio un compagno l'ho trovato nei videogiochi e secondo me quello mi ha salvato perché mi ha impedito normalmente di fare delle scelte forse magari non le avrei neanche fatte le scelte sbagliate o magari invece le avrei fatte e magari forse non starei qui a raccontare non so se anche a voi è capitata la situazione raccontava un fan su instagram come vi avevo già detto magari se gli fa piacere potremmo riportare anche la sua la sua storia è molto ma molto molto peggiore della mia e anche se per voi è stato lo stesso perché obiettivamente è facile dire dall'altra parte io ho fatto delle scelte giuste o delle scelte sbagliate e dare la colpa e puntare magari su delle scelte sbagliate perché obiettivamente la vita spesso e volentieri ci mette davanti a delle prove e delle scelte che non è che se tu fai scelta giusta sei bravo e sei in gamba io le faccio sbagliate sono un cretino no è che secondo me a volte ci vuole anche ci sono persone che riescono da sole a uscire da certe situazioni e altre invece che hanno bisogno di qualcuno che li aiuti qualcuno che li dia conforto qualcuno che lui dica si stai facendo bene si stai facendo male e vi posso garantire che forse una delle cose più fondamentali è se c'è anche un amico che fa una scelta come la vostra perché se sono tutti che fanno scelte sbagliate è ancora più difficile perché significa uscire completamente dal gruppo in cui stai e è vero che può sembrare una cosa sana però secondo me quando si è piccolo fare quello che non fa il gruppo significa essere stupido magari queste scelte uno non le fa quando è più grande ma quando si è più piccoli è facile commettere questi errori scrivete sotto nei commenti che cosa ne pensate perché ovviamente era una cosa che volevo condividere con voi e spero naturalmente che vi abbia fatto piacere ciò che non sono così vai